Daniele Damari è l'assessore dello sviluppo economico, va a compimento un processo lungo durato un paio di anni ma che unisce due società in house che rappresentano una parte importante dell'attività in generale dell'Abruzzo ma anche della regione Comente. Sì, oggi arriva a conclusione un iter importante che prevede la fusione di Abruzzo, Sviluppo e Fira, i due bracci operativi della regione Abruzzo per quanto riguarda l'economia e lo sviluppo economico della regione Abruzzo, da oggi avremo uno strumento sicuramente più agile che permetterà di assistere le imprese abruzzesi sia in campo finanziario che in campo economico e di sviluppo, di innovazione tecnologico, insomma. Riusciremo a servire meglio l'economia del territorio con una società nuova al passo con i tempi e che potrà mettersi a disposizione dello sviluppo economico dell'Abruzzo. Senta, assessore, il processo di fusione è un elemento di crescita, penso, per entrambe delle due società in house, ma per la regione Abruzzo che cosa significa? Ma per la regione Abruzzo, dicevo, significa avere uno strumento da mettere a disposizione delle imprese abruzzese, dell'economia abruzzese per stare al passo con i tempi, insomma ci accingiamo a un momento di transizione ecologica, digitale, industriale ed è giusto che la regione Abruzzo abbia uno strumento, un braccio operativo snello, rapido, che può saltare spesso quelle che sono le lungaggini che invece si hanno nei settori dei dipartimenti di regione Abruzzo. Per concludere, questo naturalmente è una prospettiva del FESL 21-27 che ha una dotazione molto importante e che significa molto lavoro per la regione. Assolutamente sì, diciamo la programmazione 21-27 che di fatto sono sette anni ma di fatto ne saranno cinque perché insomma siamo già al 2023, ha un pacchetto economico importante per la regione Abruzzo, parliamo di circa un miliardo e ottanta milioni, insomma, che sono la somma delle ultime due programmazioni messe insieme. Nel 2023 saremo in grado di uscire con i primi bandi per le richieste del territorio, del settore industriale abruzzese ed economico abruzzese e quindi avere una società in grado di supportarci in questo processo è sicuramente un aspetto positivo.